Ciao a tutti, vi invito a seguire i profili social di un'azienda agricola di Castelluccio di Norcia, la Valor perché ricordatevi sempre che se la lenticchia buona vuoi mangiare dalla Valor la devi comprare quindi in descrizione vi lascio il link della pagina Facebook dell'azienda agricola Valor e del profilo Instagram dell'azienda agricola Valor per non perdervi nulla sulle loro novità per esempio questo Natale hanno fatto delle box con dei prodotti tipici per regalo cioè delle box con dei prodotti tipici da regalare perché non producono solo lenticchia ma producono anche altri prodotti tipici della zona per cui ricordatevi per cui non vi resta altro che andare in descrizione di questo video devi aprire il video, aprire il link del profilo della pagina Facebook, profilo Instagram e seguirli perché se i prodotti buoni vuoi mangiare dalla Valor li devi comprare Grazie a tutti